Mister, l'ultima di campionato c'è questo terzo posto da mettere in cassaforte, le chiedo come ci arriva la spara, che settimana è stata dopo la sconfitta immeritata, come abbiamo detto più volte contro gli Abadessi? Le sconfitte lasciano un po' sempre qualche segno, poi se sono meritate, meno meritate, più meritate, però ha lasciato un segno nel senso che noi sappiamo che abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo sbagliato negli atteggiamenti e nei comportamenti che poi ti condizionano il risultato. Però la prestazione c'era stata, dobbiamo ripartire dalla prestazione e non dagli atteggiamenti e devo dire la verità che stasettimana ci siamo allenati bene, come sempre, e siamo pronti per ottenere il terzo posto che era l'obiettivo che saremmo prefissi al mio rientro, era l'obiettivo che avevamo e domani dobbiamo raggiungerlo. Ci sono molti diffidati, ha già deciso se rischiarli tutti, se rischiarne solo qualcuno o se fare dei calcoli anche in previsione dei play-off? No, nessun calcolo, nel calcio quando si fa il calcolo è la cosa più brutta, andando nel campo quelli che ritengo più idoni, anche non stravolgendo tanto della squadra di domenica, più idoni non conta adesso essere diffidati, poi rimarranno solo delle partite secche, perciò poi chi ci sarà farà sicuramente al meglio. Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare soltanto alla gara di domani che ci può permettere, come ti ripeto, di arrivare terzi e di giocare la semifinale in casa. Che partita si aspetta domani? Beh, ma ci sono arrivate già delle notizie, noi abbiamo allenato parecchi ragazzi là, c'è tutto lo staff che conosce bene, so che Noffri ci tiene tanto alla partita, come è giusto che sia, vengono qua per fare una bella gara, so che ha motivato la squadra dicendo che la Rizzo è l'unica, una delle tre squadre in Italia che non ha mai perso in casa e vogliono fare colpaccio, è giusto che sia così perché il calcio deve essere libero da ipocrisia e libero da tante cose. Poi nel campo durante i 95 minuti insomma i giocatori sanno quello che devono fare.